per ora tu la presenza non la buongiorno buongiorno presidente siamo in congiunta mi sa che presiedi tu perfetto sono le undici e zero quattro siamo al primo appello e chiedo alla segretaria Giuliana Bagnasco che ringrazia per la sua presenza di procedere all'appello Mattagliano presente Sala Assente Arcoleo Assente Di Pisa Assente Ferrandelli Assente Ficarra Assente Forello Assente Lomonaco Presente Meghi Assente Susino Assente Russo Assente Tantillo Assente Gerardo Assente Faccio l'appello per la commissione Bertoglino Presente Mattagliano Lomonaco Presente Caputo Assente Chimici Presente Non avendo raggiunto il numero legale la seduta è posticipata di un'ora e più precisamente alle 12.05 Ok Grazie 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 Gentilmente se può staccare la registrazione Grazie 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 Grazie.